Raccontare le Marche attraverso i suoi borghi, i suoi sapori, la sua vicenda millenaria ma soprattutto le sue tradizioni. E' questo l'obiettivo della Regione che ha promosso l'iniziativa denominata Marche Storie, una festa che coinvolge luoghi e personaggi del passato lontano o della storia recente, parte del patrimonio culturale. Per il secondo anno consecutivo partecipa all'iniziativa anche il Comune di Monbaroccio. Dopo l'anno scorso con la gran collaborazione con Cartoceto e l'affrontare i percorsi che ci riguardavano la vallata di Ripalta e di Montegiano, quest'anno invece rimarremo nei nostri confini e quindi ci addentreremo dalla chiesa di San Giovanni Battista di Montegiano con gli spettacoli serali legati alla mitologia di Giano e Ciro Pavisa alla passeggiata per la Via del Miele, passando per Montemiele con la collaborazione di Frederica Oliva dove mostrerà il valore dell'apicoltura e delle api nel contesto di un circuito giovanile che riguarderà molti bambini e molti ragazzi del territorio fino ad arrivare al Beato Sante per poi scendere per la Via dell'Acqua, quindi per il Pontaccio e risalire per Monbaroccio tramite Porta Marina arrivando alla promozione del miele, dell'olio e dell'acqua appunto. Troveremo all'interno dei musei contadini e della civiltà contadina coloro che ci insegneranno a fare anche la pasta, quindi la celebrazione del passato che riguarderà elementi futuri, quindi i nostri giovani che guarderanno con un occhio nel passato quello che dovrà essere il recupero delle tradizioni e dei valori culturali del nostro territorio. Il sindaco ha poi ringraziato la regione che attraverso questa iniziativa permette a cittadini e turisti di ripercorrere la storia di Monbaroccio e di conoscere il territorio. Alessandro le iniziative saranno gratuite? Allora, saranno tutte gratuite a parte un evento in particolare che sarà il percorso e bike verso la leggendaria Grotta del Diavolo e questo prevede un costo promozionale di euro 35 a persona e ci sarà un giro che partirà dal borgo di Monbaroccio e arriverà fino al Monte della Matera dove è presente questa Grotta del Diavolo che si narra nelle leggende locali che per la sua formazione come conformata è un po' particolare, quindi vi invitiamo a visitarla perché non voglio svelarvi di più perché la bellezza sta proprio nel vederla accompagnati poi da una guida turistica per circa tre ore sarà ancora più emozionante. Oltre a vedere questo particolare luogo sarà anche possibile apprezzare tutte le bellezze della natura circostante partendo dal mare fino al nostro bellissimo entroterra e non vi resta che prenotare perché la prenotazione è obbligatoria è contattare la parrocco di Monbaroccio o via mail oppure il numero di cellulare che è indicato in Locandina o sul sito marchestory.it